Dai siamo pronti a ripartire e avremo tanta lattuga da raccogliere e da mangiare durante tutta la stagione a parte forse il periodo più caldo ma avete visto che coprendo le piante con un telo ombreggiante riusciamo a tirare avanti tutta la stagione estiva anche con il caldo ma oggi vi voglio parlare di tre metodi per raccogliere l'insalata e per averne sempre in realtà i metodi sono due, due sono corretti e uno è sbagliato sarà un video veramente elementare però per chi non l'ha mai fatto può fare la differenza tra mangiare due, tre, quattro volte lo stesso cespo di insalata oppure mangiarlo una volta soltanto e a fine stagione può fare la differenza ci vediamo dopo la sigla Partiamo dal metodo sbagliato di raccogliere l'insalata io lo facevo quando ero proprio all'inizio l'inizio ma parlo del primo anno probabilmente poi ho capito che stavo sbagliando clamorosamente e col tempo leggendo in giro guardando video ho affinato un po' le due tecniche di cui vi parlo adesso quindi il metodo sbagliato e lo posso fare su questa perché è nata in fiore ed è bruttina poverina il metodo sbagliato per raccogliere l'insalata è la lattuga ecco abbiamo un bel cespo di lattuga guardate che questo appunto ha passato l'inverno ma un bel cespo di lattuga, bello, pieno, basta non abbiamo più niente mangiamo una volta sola e poi dobbiamo riseminare, ritrapiantare, comprare le piantine che adesso costano l'occhio della testa non abbiamo risolto un gran che con questo io adesso questo lo do alle galline quindi da me non va perso nulla torno sulla prima inquadratura, sul primo cespo di insalata e vediamo i due metodi per cercare poi di farla rinascere in qualche modo e poterla raccogliere quindi nel tempo il primo metodo che vi mostro e faccio il primo metodo perché poi capirete perché il secondo lo devo fare per ultimo e questo si chiama mungitura della lattuga esattamente come si mungono le mucche un tot di latte al giorno noi mungiamo la pianta di lattuga tirando via delicatamente le foglie esterne, quelle più belle attenzione perché probabilmente le ultime saranno le più brutte perché magari hanno toccato per terra perché sono più vecchie magari hanno avuto l'attacco di qualche lumaca se sono a queste condizioni si taglia un pezzo, si può ancora mangiare ma io che ho le galline lo do alle galline e ho risolto il problema se non avete le galline lo buttate nell'umido e poi torna tutto in circolo insomma quindi avendo a disposizione più cespi di insalata ecco che noi giornalmente possiamo togliere un po' di foglie come dice la parola stessa mungiamo la piantina di lattuga ovviamente avendo una decina di piante non dico giornalmente ma quasi riusciamo a raccogliere la porzione che ci serve per il secondo metodo che è quello che ho utilizzato fino allo scorso anno cambio di nuovo inquadratura e andiamo su questo cespo di insalata qui questa riccia allora se noi il cespo lo tagliamo a 4 litri da terra 9 volte su 10 la pianta rigetta, ributta fa ricrescere le foglie che abbiamo tagliato e noi nel giro di 2, 3, 4 settimane riusciamo a fare un nuovo raccolto vi faccio vedere ecco qua vedete? tira fuori una sorta di sostanza lattiginosa segno che la pianta comunque è viva e sana queste sono le foglie che io lascerò adesso ovviamente ora non guardate che questa vedete è fuoriterra perché ha passato tutto l'inverno ma quelle che noi coltiviamo a partire da quest'anno sono completamente immerse nel terreno io qui adesso farò un'aggiunta di terreno arriverà a filo fino a qui bagnandola tutti i giorni lei rigetterà 9 volte su 10 così quindi nel giro appunto di qualche settimana possiamo fare un nuovo taglio ora scegliete voi il sistema che vi piace di più o con la mungitura oppure con il taglio del cespo lasciando 4 dita da terra l'importante è che facciate attenzione a queste eccole qua bene questo sarà il mio cassone delle lattughe a breve comincerò a coprirlo con il telo ombreggiante l'irrigazione a goccia c'è perché l'ho messa nella seconda parte della scorsa estate e quindi siamo pronti per iniziare una nuova stagione mi raccomando non strappate la piantina è un peccato potreste mangiarci almeno un'altra volta se vi è piaciuto lasciate un like è stato un video molto semplice iscrivetevi al canale grazie per essere stati con me anche oggi ci vediamo la settimana prossima ah condividete il video se vi fa piacere magari qualche vostro amico o amica non lo sa e potrebbe venirli comodo buona giornata